A distanza di pochi giorni al voto un'assemblea capitolina che ha approvato la mozione in favore delle ragioni della Fondazione Santa Lucia, la Commissione per le politiche sanitarie del Comune ha voluto visitare la struttura sanitaria di Viardiatina. I membri della Commissione, presieduta dal professor Fernando Aiuti, hanno potuto così vedere i reparti, le palestre e gli spazi adibiti alla riabilitazione neuromotoria, che la Fondazione da 50 anni offre alla cittadinanza romana e di tutta Italia. Considerata dagli esperti un'eccellenza e un fiore all'occhiello del sistema sanitario laziale, la Santa Lucia, che è anche un IRCS, ovvero un istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, rischia tuttavia la chiusura a causa del mancato pagamento da parte della Regione Lazio, di un contenzioso di circa 93 milioni di euro. Dopo una lunga battaglia che ha portato la Giunta Polverini a tornare sui propri passi e cancellare il taglio ai posti letto, le controverse sembravano terminate il 7 aprile scorso, grazie a un accordo raggiunto sui termini di remunerazione. Da allora però, come dichiarano i rappresentanti della Fondazione, dalla Giunta di via Cristoforo Colombo non è arrivata nessuna buona nuova. Per questo la Commissione Capitolina ha promosso la mozione che chiede al Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, di intercedere con la governatrice del Lazio, Renata Polverini. La disponibilità da parte del Sindaco c'è, ha confermato il Presidente Aiuti, ma manca ancora l'apertura della Polverini per un confronto con la stessa Commissione. Lei ha parlato con il Sindaco che le ha dato delle rassicurazioni per la questione della Santa Lucia. Mi ha detto che ha parlato con la Presidente Polverini e che ha fatto presente le difficoltà che ci sono, il problema della salute di tanti cittadini romani e non romani, il problema dei tanti lavoratori altamente specializzati e noi sappiamo quanto ci vuole per formare queste persone. Anni e anni di sacrifici, sia delle persone che anche dei formatori. E mi ha detto che avrebbe fatto il possibile per cercare di trovare un accordo e comunque di rincontrare i responsabili della Fondazione Santa Lucia. Lei dà una spiegazione alla mancata soluzione di questo problema? L'incapacità politica, secondo lei? Io, pur essendo nel mio piccolo un politico all'interesse dei problemi del Comune, e ovviamente come politiche sanitarie mi sono interessato anche dei problemi della salute dei cittadini romani, ma non sono nelle sfere, le alte sfere, negli alti bottoni che conoscono bene quali sono le dietrologie. Leggo le cose nei giornali, so che il Presidente ha chiesto un incontro col Prefetto per il problema della ipotesi di chiusura del San Raffaele, che è anche una struttura importante, che svolge notevole attività nell'ambito sanitario a Roma. E posso dire, mi auguro che il Presidente Polverini possa di nuovo incontrare i responsabili della Fondazione e se è necessario anche andare dal Prefetto per questo, perché se ci va per una struttura ci deve andare anche per l'altra. Non solo per la questione del Santa Lucia, ma anche per altre questioni che riguardano la sanità pubblica, si è rivolto alla Polverini chiedendo un incontro, finora non l'ha ottenuto. Sì, ho chiesto vari incontri per le chiusure che ci sono state di reparti, per esempio il CTO del Sant'Eugenio, l'emergenera rinazione, la geriatria del San Giovanni. No, non ho mai avuto udienza dal Presidente Polverini e mi dispiace perché penso che sia anche una mancanza di rispetto, non per me, ma insomma per il ruolo che ricopro e anche per l'attività che in questi anni ho fatto al Comune di Roma nelle varie emergenze, dall'influenza all'AIDS, alle tossicodipendenze, è un problema di sanità e un problema di problemi di aspetti sociali. Quindi il fatto che una Presidente rifiuti un incontro per problematiche che riguardano la salute pubblica per me è inspiegabile. Devo dire a tutto onore dei miei cosiddetti avversari politici che quando ho chiesto un incontro a Montino, a Marrazzo, adesso anche a Storace, quando era alla Regione, sono stato sempre ricevuto. Sono stato ricevuto due volte dal Ministro Fazio per problemi che riguardavano sempre la sanità del Lazio. Non capisco, evidentemente non gli sto simpatico, posso dire una battuta, non lo so, o forse sono demodè, sono troppo vecchio per essere ricevuto dalla Polverini. Quella della Commissione in aiuto della Santa Lucia, hanno spiegato i membri sia di centrodestra sia di centrosinistra, non vuole essere una guerriglia politica, ma un'azione necessaria in difesa della sanità pubblica. Onorevole, sembra che opposizione e maggioranza siano d'accordo una volta tanto per la questione Santa Lucia, ma come risolverla? Allora, come risolverla? È un problema che bisogna affrontare nei tavoli tecnici di competenza. credo che non sia, mi sono convinto che non è un fatto politico, che quando si parla di sanità non si possono, sanità soprattutto di eccellenza come la Santa Lucia non si può fare un fatto, non si può prendere una posizione magari contraria a quelle che sono esigenze del posto solo per un fatto politico. Non esiste, non lo concepiamo per cui non è la nostra politica. È chiaro che da cittadini, prima ancora che politici, ricoperti di un ruolo istituzionale come quello che abbiamo, i membri dell'Assemblea Capitolina, abbiamo pensato di fare visita alla Santa Lucia e personalmente mi sono occupato di convocare la Commissione di Salute, invitando il professor Aiuto a farlo e portare quindi in audizione i dirigenti della Santa Lucia e capire quali sono le problematiche e quindi trovare anche insieme le soluzioni. Il rischio di chiusura per la Fondazione, secondo il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, Mario Falconi, è grave e preoccupa sia i pazienti che a migliaia vengono assistiti nel centro, sia i dipendenti sanitari. Per questo il Presidente Falconi ha proposto di scendere nuovamente in piazza per manifestare di fronte alla sede della Giunta regionale. Chi ha ruoli istituzionali vada lì davanti alla Regione, io ci andrò per dire che questo problema va risolto. È troppo tempo che se ne parla, si discute, ma basta, basta. È il Direttore Generale della Fondazione Luigi Amadio a descrivere la situazione e elencare gli ultimi incontri che ci sono stati fra la Regione e la Santa Lucia. L'accordo non è stato assolutamente rispettato dalla Regione. In questo accordo venivano evidenziati cinque punti con delle soluzioni temporanee però per dare sollievo alla Fondazione in un momento particolare. Nessuna delle cose previste nell'accordo è stata fatta, in particolare poi era prevista una riunione entro la fine di aprile per verificare lo stato di attuazione dei punti e impostare il finanziamento strutturale adeguato della Fondazione. Non è stato fatto nulla. Noi abbiamo sollecitato, anche i sindacati hanno mandato una lettera di sollecito, però la Regione in questa cosa è assolutamente latitante. Certo averci assicurato in questo accordo anche una somma che loro avevano stabilito, non è che abbiamo chiesto noi quella somma perché a noi occorre molto di più, come un primo aiuto. Una somma addirittura identificata con i centesimi e poi a distanza di un mese non è fatto venire niente e la grave situazione della Fondazione allora si è ulteriormente peggiorata. Noi non sappiamo veramente più come andare avanti.